Il titolo è fin troppo facile, le cascate della E45, così un cittadino pubblicando queste foto ha ribattezzato questo viadotto che, scherzi a parte, fa davvero paura. Evidentemente ci sono stati dei fori nella carreggiata che hanno poi determinato le infiltrazioni. Le foto si riferiscono al tratto romagnolo della E45. Proprio in questi giorni il comitato vergogna E45 aveva presentato due nuovi esposti, uno alla procura di Arezzo e l'altro a quella di Forlì, per chiedere di vigilare sui fondi stanziati per il ripristino del manto stradale e per effettuare carotaggi non solo nell'area di sosta crollata e ora sequestrata dalla procura. Ovviamente ci rendiamo conto che se crolla una piazzola, sì, è grave, però se dovesse succedere, scongiuriamo questo, però se dovesse succedere in altri punti ovviamente sarebbe molto, molto, molto più grave. I nuovi appalti, i nuovi stanziamenti che vengono fatti di continuo, però ci chiedevamo appunto dove finiscono questi soldi, insomma. E in seguito anche al crollo della piazzola famosa ormai, lì abbiamo chiesto appunto di mettere in sicurezza l'area prima di tutto, perché è stata posta sotto sequestro, sì, però la frana ancora continua, insomma. E quindi la cosa principale da fare è mettere in sicurezza. E in più abbiamo chiesto anche che vengano fatti dei carotaggi non solo nell'area adiacente la piazzola, ma anche nei cantieri che sono praticamente ovunque. E soprattutto nei punti più critici, tipo viadotti, tipo i piloni. Ci sono segnalazioni continue di nobuche, crateri, che si aprono in seguito soprattutto agli ultimi eventi atmosferici, però insomma non dovrebbe verificarsi questo.